Cresce il numero dei passeggeri che arrivano con le navi da crociera ma aumenta anche il traffico merci e quello dei container. Nel 2019 i numeri promuovono i porti del sistema portuale del Martirreno centrale. A dirlo sono i dati diffusi oggi dall'autorità portuale che descrivono un bilancio positivo per il 2019. Nei porti sono stati 1.454.023 i croceristi approdati nel 2019 con un incremento del 27,36% rispetto all'anno precedente. L'incremento riguarda anche il traffico merci che nei porti di Napoli e Salerno rispetto al 2018 in termini di tonnellate è aumentato dello 0,9% per un totale di 32,9 milioni di merci movimentate. A crescere è anche il traffico container che nei porti di Napoli e Salerno fa registrare un incremento del 5,65% rispetto al 2018. Il dato più stabile è quello che riguarda il traffico rorò che presenta appunto un andamento sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente con una leggera dinamica positiva nello scalo salernitano dell'1,6% in più rispetto all'anno precedente.